9 ottobre fila strocca dello scricciolo più piccino di uno spicciolo che si scorda di mangiare dalla smania di volare che è in continuo via vai e perciò non cresce mai ciao benvenute e benvenuti io sono alessia canducci e questo è versi persi voce li dice è un modo per non perdere i versi che se stanno scritti e basta e vanno persi bisogna dirli leggerli e queste 366 fila strocche sugli animali che sono state scritte da nicoletta codignola illustrate da rianna papini e hanno il titolo millanta la gallina canta pubblicate da fat truck ci danno anche un'indicazione preziosissima che una poesia al giorno chissà forse toglie davvero il medico di torno può essere molto piacevole a casa qui viene consigliato di leggerle la sera ma io direi a scuola invece la scuola dell'infanzia la scuola primaria in particolare si potrebbero leggere come buongiorno prima di qualsiasi altra cosa appunto una al giorno o come vi pare ecco per esempio io ne ho scelte alcune perché mi piacevano perché mi facevano pensare a qualcosa di urgente e importante per esempio il 25 aprile ce n'è una che fa fila strocca della colomba bianca che si sentiva sempre più stanca di portare pace per ogni dove venendo sempre mandata altrove finché è indossato un abito nero è andato a stare e non cimitero però per esempio il 24 maggio c'è fila strocca della mosca che fa parte di una cosca dove accettano solamente chi è noioso ed invadente e poiché si è messa in vista è la prima della lista e poi beh c'è veramente l'imbarazzo della scelta però ho pensato ma 366 e non 365 già perché c'è un giorno e che non c'è sempre e quel giorno è il 29 febbraio e sono andato subito a cercare di cosa parlava fila strocca del gatto nero che se per caso attraversa il sentiero o prima o dopo puoi star sicuro trovi uno scemo che fa lo scongiuro che se ti dice che porta iella digli che ha perso una rotella e quali altre tante tantissime potrei leggervene una che è illustrata a colori e qui la riconosciamo ancora meglio la nostra amica riana papini nei suoi colori in come in come li stende 5 febbraio fila strocca del ranocchio che par brutto a colpo d'occhio ma che invece è proprio un asso a saltar di sasso in sasso che a baciarlo credi a me dalla gioia diventa un re beh e insomma non resta che leggerle dare voce a questi versi per non perderli anche perché sono così gioiosi e profondamente toccano degli aspetti molto veri e quindi grazie a tutte e a tutti per essere stati con me se vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi fate quel che vi pare ma soprattutto date voce ai versi per non perderli alla prossima ciao